Si sa che queste partite qua i valori sulla carta si annullano perché si gioca a casa loro dove hanno avuto una grandissima opportunità anche loro di portarla a casa e quando si gioca come hanno giocato loro la prima partita ovviamente la consapevolezza di potercela fare c'è anche stasera ci hanno messo in parecchia difficoltà però ancora una volta la squadra ha reagito da squadra sono entrati tanti ragazzi che hanno aiutato tutti quanti con il loro gioco a ribaltare una situazione che si era già fatta molto complicata e a portare un risultato importantissimo a casa ovviamente questo non significa nulla perché dobbiamo ancora ripartire da 0 a 0 a Verona l'intensità in allenamento di tutti i ragazzi è grande e quindi li ritengo tutti quanti pronti per giocare per cui per me non è una sorpresa nel senso che tutti quanti si allenano molto molto bene con grandissima intensità per cui quello che stanno facendo in campo è solo la conseguenza di quello che succede in allenamento per cui nonostante questo sono molto soddisfatto del risultato perché ci dà molta carica emotiva però adesso come ho detto prima ripartire da 0 a 0 grazie a tutti